Buongiorno e benvenuti a questo corso che abbiamo intitolato Elementi di matematica generale. Io sono Alberto Zaffaroni, lui è Luca Ferrari e siamo docenti di matematica al Dipartimento di Economia, questo alle nostre spalle, dell'Università di Modena in Reggio Emilia. In questo corso tratteremo in sintesi tre argomenti fondamentali che vengono abitualmente trattati nei corsi di matematica dell'Università. Il calcolo differenziale per funzioni di una variabile, il calcolo integrale e le matrici e la risoluzione dei sistemi lineari. L'idea di preparare un corso con questi contenuti ci è venuto pensando in particolare agli studenti che incontriamo nel Dipartimento di Economia e che si iscrivono alle lauree magistrali. Loro tipicamente hanno dei ricordi magari un po' sfuocati dei corsi fatti alle triennale o magari addirittura vengono da una triennale che non prevede nemmeno un corso di matematica e quindi dovrebbero far riferimento ai loro ricordi delle scuole superiori. Tuttavia il corso non prevede nessun contenuto di carattere prettamente economico e quindi è rivolto a tutti coloro che più in generale vogliono impadronirsi per esempio di alcune tecniche che vengono abitualmente proposte nei corsi di matematica del primo anno. D'altra parte non può essere, non deve essere inteso questo corso in sostituzione di un tradizionale corso di matematica del primo anno in quanto ovviamente nei corsi di matematica universitari il livello di approfondimento e di dettaglio è senz'altro maggiore. I contenuti del corso sono fruibili del tutto liberamente in qualsiasi ordine e anche solo parzialmente a seconda delle esigenze di ciascuno. Oltre ai video delle lezioni troverete anche altro materiale, esercizi e test di valutazione che servono un po' per mettere alla prova la comprensione di ciò che noi vi racconteremo. Non ci resta che augurarvi buona visione e buon lavoro.